Siamo che sia tutto concluso entro la fine della settimana. Stia tranquilla, signora Creger. Tempo pochi giorni e le azioni del gruppo Ferri non varranno più niente. È quello che ci auguriamo. Ci sentiamo venerdì mattina. Va bene. La saluto, signora Creger. Arrivederci. Senti, si può sapere che cos'hai da quando sei arrivata che non hai detto una parola? Non volevo interrompere la conversazione. E poi sai, quell'uomo sta buttando nel cesso il mio patrimonio di famiglia. Se permetti questa cosa non mi rende tanto... Non ho mai detto che non sarebbe stato doloroso, ma andava fatto. Era l'unico modo per battere Ettore sul tempo. Senti, dalle qualche cosa da bere perché non la sopporto. Senti, se voglio bere me lo prendo da sola, chiaro? E smetti di trattarmi così. D'accordo, basta che la smetti di fare l'isterica tu. Io non sono isterica, ok? Non sono isterica! Sto perdendo la pazienza, Anita. Basta! Per quanto sciocchezze possa fare mia figlia, nessuno si può permettere di trattarla così. Ma tu che cosa vuoi? Un po' di educazione, visto che la tua voce si sente fin dentro il mio ufficio. Tappati le orecchie allora. Certo che commetto sempre degli errori con te, vero Marina? Come posso pretendere un po' di educazione da una lavandaia? Vediamo di finirla qui, non ho chiesto il tuo parere. Nessuno si può permettere di rispondermi così. Di chiamarti lavandaia? Perché? Lo sai benissimo che io di te invece penso molto, molto di peggio. Esci con la giornata sbagliata, Marina. Con chi credi di avere che fai? Credi di farmi paura? Ti sei forse dimenticata che sono io? Ti prego, mamma. Sta in zittà. E lo so benissimo che ci sei tu dietro la faccenda del DNA.